Comincia il prez Comincia il prez E' capitato quello che tutti ci aspettavamo E' bastato un quarto d'ora, mezz'ora Con i mister per definire le nostre cose Erano accordi sugli impegni già presi in precedenza Avevamo un pur parli che abbiamo fatto Abbiamo rinnovato per due anni il contratto a Novellino Perché è giusto che sia così Perché in questi due anni Alzando l'asticella ci auguriamo di ottenere risultati sempre più importanti Non mi sembrava giusto legarlo ad un anno solo Tutte le responsabilità di una crescita evidentemente dei risultati Quindi l'abbiamo spalmato nei due anni successivi Mi auguro che questi risultati possano accompagnare I colori dell'Avellino Ci possono portare in situazioni importanti Insomma speriamo Poi sul calcio tutto è opinabile Sapete meglio di me che Non è che tu prendi l'allenatore bravo Prendi lo staff bravo E vinci per forza Il calcio non è matematica Quindi il nostro impegno l'abbiamo messo Abbiamo fatto questo contratto Il mister lo ringrazia della sua disponibilità Innanzitutto Lo ringrazio per quello che ha fatto l'anno scorso L'ho detto centomila volte E lo sto dicendo anche oggi E mi auguro di poterlo ringraziare meglio Alla fine del prossimo campionato Ieri intanto abbiamo ascoltato L'onorevole D'Agostino C'è stato il comunicato nel quale ha detto Prima Taccone e Gubitosa si chiariscono Eventualmente scrivono la squadra Poi intervengo io Non mi fate fare battute antipatiche Se io scrivo la squadra non entra nessuno Allora se qualcuno vuole entrare Ora è il momento di dare una mano all'avellino Sarebbe troppo bello C'è Taccone cacci soldi per scrivere la squadra Poi arrivano gente fresca fresca E si vuole siedere a tavola No Se si vogliono siedere a tavola con me Si siedono oggi Altrimenti il discorso è rinviato Non c'è nessun problema Quando si chiarirà con Gubitosa? Se c'è bisogno di un chiarimento Credo che oggi ci sarà il passaggio delle quote Probabilmente dal dottore Gubitosa Dalla sua società alla mia A futura diagnostica Taccone diventa proprietario al 100% della bellissima Presumo che questo dovrebbe essere Quello che ci siamo detti E io credo che poiché Michele è sempre stato Un uomo di grande parola Ha sempre tenuto fede ai suoi impegni Da quando sta con me da due anni Quindi poiché mi ha detto questo La sua volontà è questa Io non credo di poter coinvolgerlo necessariamente Se lui non vuole andare avanti Rispetto la sua decisione Sono con lui Ringraziandolo ancora Per tutto quello che ha fatto per l'Avellino In questi due anni Presidente quindi in questo caso Dovrebbe partire il piano B C'è quello delle cordate esterne Taccone per adesso diventerà probabilmente Dico perché fino a quando non lo facciamo Non è che lo so con certezza Diventerà il proprietario al 100% della Lavellino Dopodiché si aprono gli scenari Che voi sapete Quindi se vengono persone che hanno la stessa mentalità Perché questo è l'impegno che ho preso con l'allenatore L'allenatore ha detto Se resta lei io resto Se non me ne vado Perché anche questo è un patto Voglio dire di grande solidarietà Tra di noi Taccone non lascia sicuramente Se viene qualcuno Che vuole dare una mano a Lavellino Per cercare di rinforzare Lavellino E fare in modo che Lavellino Possa aspirare sempre ad obiettivi più importanti Ben venga Ma deve avere la nostra mentalità Persona seria Persona conosciuta Persona di cui si conoscono le proprie esigenze E le proprie capacità Se viene a darci una mano Noi lo accoglieremo sicuramente a braccia aperte Taccone resta qui E non lascia sicuramente Potrebbe quindi aprire a qualche offerta Come diceva in passato Proveniente da altre ragioni L'ho detto prima L'onorevole d'Agostino Resta sempre il mio golden standard Però dipende da lui Se lui dovesse fare un passo indietro Io lo prendo Lo prendo In considerazione E vedrò Di chiudere l'operazione Con altre persone Spero Di non arrivare a tanto Perché mi dispiacerebbe molto Per me Per la città di Avellino E per l'imprenditore d'Agostino Che è sempre stato vicino A noi Da ormai da cinque anni E quindi io immagino Che lui abbia voglia Di continuare a fare Questa bella avventura con noi Altrimenti Taccone al 100% da solo Altrimenti Taccone Per adesso al 100% da solo Poi vedremo Quello che succede nel tempo Perché non è che possiamo dire Quello che il destino O il futuro Ci possa Si possa Si possa Aprire Spiraglie Si possono aprire Devo dire la verità Scenari molto interessanti Ma non per me Per l'Avellino Quindi avere Gruppi importanti Alle spalle O con noi Può essere una cosa Che fa stare tranquillo Noi I tifosi I giornalisti Il mister Che lavorerà ancora più voglioso E cercherà di raggiungere Quei famosi risultati Che tutti noi ci aspettiamo Presidente Dovrando al mister Basta 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 Il mister Mi sembra più giusto Intervistare il mister Mi sembra Prego Taccone Dallo staff Tecnico Non c'entra Niente Non ne capisce niente Mi sono fatto da parte Il mister ha detto Guardi io con lei posso parlare Di altre cose Però Delle cose tecniche Ne ho parlato E ne parlerò Con i due direttori Direttore generale Direttore sportivo Che hanno la sua fiducia Me l'ha detto Giù E io sono molto contento Di tutto questo C'è una bella unione Tra tutti e tre Quindi sono certo Che faranno belle cose L'ultima cosa Presidente Una cosa è se rimane solo lei al 100% E quindi ci sono degli obiettivi Un'altra E se viene affiancato da un accordato No Gli obiettivi sono sempre gli stessi Assolutamente Quali sono? Sono gli obiettivi di migliorare La posizione dell'anno prossimo Dell'anno scorso E di avere sempre risultati Sempre più allineati Diciamo al blasone dell'Avellino Da solo O in compagnia Tornando all'opzione di Agostino Ci sembra di capire Però Una sorta di Virgoletto ultimatum O si fa Prima Prima Ragazzi L'iscrizione è il giorno 20 Oggi ne abbiamo sei Quindi abbiamo due settimane di tempo Per poter discutere L'importante è che noi sappiamo Che La società va avanti Da sola O in compagnia Però ieri ci ha parlato D'Agostino Addirittura dell'ipotesi Di prendere l'80% Cioè Vuole fare la scalata Tutta la Quoto Quasi Ma questo Ma questo Questo fa parte Di una trattativa Le trattative Si fanno Con il placet Di entrambe le parti Insomma Nel momento in cui Io sarò la persona Con la quale L'unica persona Con cui dovrà discutere Ci sediamo al tavolino E vediamo di fare Una trattativa Che sia coerente Anche perché D'Agostino È uno di noi È uno della nostra famiglia Un irpino Come noi Quindi sicuramente Non farà il bene Per l'Avellino Sicuramente Se dovesse entrare Anche il nodo stadio Da risolvere Il nodo stadio Per cortesia Non ne voglio parlare Per cortesia Problemi non ce ne sono Problemi dello stadio Non ne abbiamo Io non pago niente Perché non devo niente Al comune Quindi non pago niente Invece lo strappo Anche qui Tra virgolette Con Cubitosa È definitivo Ma non c'è nessuno strappo Io e Michele Ci siamo sentiti ieri Amabilmente Insomma Non c'è nessuno Io non capisco Perché dovete per forza Creare dei problemi Dove non esistano Io e Cubitosa Hanno lavorato così bene insieme Io e Cubitosa Abbiamo fatto un ottimo lavoro Per due anni Siamo stati Come due Non dico come due fratelli Perché è molto È un problema c'è Se fa via Cubitosa Altrimenti non andava via Ma scusate Io non mica sto nelle tasche Di Cubitosa Nella mente di Cubitosa Che ne so perché va via Scusate Non capisco Dovete chiederlo a lui Non a me Certamente Voglio dire Il socio di minoranza Che va via Evidentemente Voleva trovare più spazio Se lo spazio Non l'ha trovato Decidere di andare via O di restare Ma sono decisioni sue Cioè non è che io posso pensare Posso scervellarmi Per capire perché È voluto andare via Qua abbiamo parlato di ghiacchiere Programmazione Organizzazione Come se non fosse Non è programmato In organizzante Ricordo che io faccio Un imprenditore Quando Cubitosa Andava alla scuola elementare E quindi voglio dire Non è che devo avere qualcuno Che mi insegna Eh no Scusate Mi svegete a dirlo Non è che io poi adesso Devo passare come il cretino Che non sa neve organizzare Dei programmare il futuro Ragazzi Svegliamoci per cortesia E allora va bene Voglio fare una precisazione Ho rispetto di voi Ma ho anche rispetto Dei vostri colleghi Domani parleremo Parleremo con tutti No credo Esatto Sono contento E posso intervenire Io penso che Sia Taccone Che Cubitosa Hanno lavorato Talmente bene insieme Non vedo tutte Queste polemiche Che voi state facendo Insomma Sono persone per bene Persone che hanno lavorato Penso per il bene In modo particolare Taccone Il nostro presidente A di là di questo Io credo che Ho avuto le garanzie Del presidente Sono felicissimo Di lavorare di nuovo Con l'Avelino Calcio Con la società E speriamo di fare Un bel lavoro Due anni in Serie A Sì È stato proposto Due anni in Serie A Eh perché no Però Andiamo piano Però sono convinto Due anni Eh ok Va bene Ok Mesta dell'antezza Chiudo 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 Sino anche i vostri colleghi Non è giusto Un po' di rispetto Anche per loro Grazie Grazie